Ma probabilmente per missione, nel senso che sfruttare una mia conoscenza, una mia skills per aiutare le persone, è probabilmente l'obiettivo a cui miro di arrivare. Ma sicuramente quando i pazienti ti scrivono e ti ringraziano per quella determinata scelta è sicuramente la cosa più bella che non si può dimenticare. E' parecchio perché concentrare tutto sul lavoro senza possibilità di distrazione non è stato facile. Ma sì, sì, assolutamente. La gestione dei pazienti durante la pandemia è stata anche supportata da colleghi e quindi è stata adeguata e sono soddisfatto. Ma sicuramente una persona riflessiva, un medico che ascolta il paziente, che attenta alle esigenze del paziente. Grazie a tutti.